E scattare delle bellissime foto. Queste notti fa il pescato di tutto l'anno, perché quando vengono, vengono avanti insieme. E viene avanti l'anguilla adulta, che si riconosce, le nostre sono marchiate, sono argentate e pancia bianca. Quelle soprattutto più grosse, le tengo da parte per liberarle. Di solito noi lo facciamo dopo Natale. Il 26, il 27 decide il parco, un giorno. E l'anno scorso ne abbiamo liberate sette quintali. Di notte, di giorno, di giorno, di giorno, normale. E datelo loro la libertà. Come sento, non ha quelli vedi proprio l'istinto che vanno verso il mare. Ed è sempre un'emozione liberare. Insomma, avete capito che mondo incredibile, che animale incredibile è l'anguilla. Quanti momenti inaspettati si possono vivere anche dietro l'angolo?